Conrado verrà arrestato dalle guardie civili. L'accusa è molto grave, omicidio plurimo. Come si giungerà a questo punto critico? Come già sapete, Conrado è arrivato al paese per cercare l'oro. Quando la notizia si diffonderà, tanti minatori in cerca di fortuna chiederanno di poter lavorare con lui. Conrado, nonostante le buone intenzioni, ne assumerà solo una parte. Questa decisione gli costerà molto cara, gli uomini, sentendosi traditi, si organizzeranno in gruppi rivoltosi. La diga crollerà e dei minatori moriranno. La colpa verrà fatta ricadere su Conrado. Dell'intera faccenda se ne vorrà occupare l'esmes, ma in realtà il medico ha ben altro in mente. Tra le sue macchinazioni, vi è quella di toglierlo di mezzo per potersi godere indisturbato la compagnia di Aurora. L'esmes è molto furbo, per ringraziarsi la ragazza, dirotterà tutti i sospetti su un certo Evaristo. Sia Conrado che Evaristo verranno giudicati innocenti e l'esmes prenderà due piccioni con una fava, perché Aurora si fiderà completamente di lui da quel momento in poi. La situazione peggiorerà quando si scoprirà che l'esmes ha una ben nota complice, Jacinta Ramos. Il medico, completamente plagiato, cercherà di far andare male il parto di Maria. Uscendone indenne, non si fermerà a questo crimine, ma metterà tutto il paese in serio pericolo di morte. Naturalmente con l'aiuto della Ramos. L'esmes infetterà gli arnesi con i quali Aurora aiuterà Maria a partorire. Non solo la piccola contrarrà una brutta infezione, ma anche la stessa Maria, che cominciava a sentirsi male e ad avere la febbre alta. Ancora una volta, l'esmes non verrà scoperto e la passerà liscia.